L'orgoglio delle marche, della nostra protezione civile, dei nostri territori che sono stati individuati per ospitare questo evento internazionale a livello europeo di esercitazione di protezione civile legato anche all'attività sanitaria. Perché dico all'attività sanitaria? Perché saranno dislocati nel comune di Arcevia, esattamente qui nella provincia di Ancona, tre ospedali da campo, uno proveniente dalla Germania, dalla protezione civile tedesca, uno dall'Austria e uno dalla Romania. Poi ci saranno tutta una serie di esperti provenienti anche da altre nazioni, per circa 220 persone provenienti dall'esterno, dalle nazioni straniere, tra operatori sanitari, protezione civile e anche esperti che valuteranno poi le attività che si portano avanti. Noi come Regione Marco ovviamente dovremmo mettere a disposizione tutta una serie di persone e di volontari, oltre 200 anche da parte nostra, oltre alla grande disponibilità che ha dato il comune di Arcevia perché logisticamente è molto difficoltoso tutto questo percorso, che durerà diversi giorni, dal 6 al 9 con un evento conclusivo il 10 di giugno. Ringrazio anche tutta la collaborazione dalla prefettura innanzitutto, ma poi tutte le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e tutto il volontariato diffuso. Cos'è questa esercitazione? Di fatto è un test che mette insieme le protezioni civili di vari paesi d'Europa, proprio perché in casi eccezionali di gravi calamità che possono succedere in qualsiasi parte del mondo, non solo nel nostro territorio o in Europa, le protezioni civili vengono chiamate e per questi eventi così drammatici magari e ampi sui territori, per la loro gravità, occorre una protezione civile non legata singolarmente ad una nazione o ad una realtà diciamo minore, ma occorrono grandi organizzazioni. Anzi, io voglio anche dire che questo tipo di attività in questo momento da parte della protezione civile europea si sta avverando ai noi, purtroppo, proprio nelle nostre zone della vicina Romagna, dove c'è proprio un'articolazione in questo senso organizzata dalla protezione civile europea. Quindi è un test che viene portato avanti a livello europeo ed è caratterizzato sui territori di Arcevia nelle Marche. Quindi questo, sì, come abbiamo iniziato prima, ci rendo orgogliosi perché se veniamo scelti per una organizzazione così complessa che simula un grande terremoto, quindi con l'installazione di tre ospedali da campo, vuol dire che nelle Marche c'è una grande fiducia nella nostra protezione civile e nella nostra organizzazione complessiva.